Forno crematorio di Como si aggiungono lavori in più per 15.000 euro durante le operazioni di sistemazione. E' emersa infatti la rottura di un impianto, danno che, spiegano dal Comune, non poteva essere previsto prima. Se i costi crescono, i tempi però non dovrebbero allungarsi di molto. Il forno dovrebbe tornare in funzione tra fine luglio e inizio agosto. Si tratta di un intervento di integrazione rispetto ai lavori in atto, spiega l'assessore uscente ai servizi cimiteriali Marcello Jantorno. Entro 20 giorni da oggi le operazioni saranno concluse all'incirca per la prima decada di luglio. Poi ci vorranno alcune settimane per procedere con l'attivazione e la messa a regime. Quindi finalmente potrà ripartire, presumibilmente, con l'inizio di agosto. Intanto, per non perdere ulteriore tempo, Palazzo Cernezzi ricorre ad un incarico diretto provvisorio ad una cooperativa del settore che consentirà di avere a disposizione il personale per far funzionare l'impianto in attesa dell'incarico di più lunga durata che dovrà essere affidato con gara pubblica. Nel frattempo, per quanto riguarda la ristrutturazione totale in termini di edilizia e di tecnologia del forno, come noto è stata avviata la procedura di negoziazione con l'impresa, il cui progetto è stato preselezionato su un totale di tre presentati da tre aziende diverse. Per affinare e migliorare la proposta al termine del percorso, la nuova giunta valuterà come procedere. Il forno è noto, è spento da più di un anno e i comaschi devono percorrere decine di chilometri per far cremare i propri defunti. Per le prossime settimane, fino alla rimessa in funzione dell'impianto, è stato però raggiunto un accordo con il forno di Biella, che applica già tariffe simili a quelle di Como, ad effettuare il trasporto gratuitamente, evitando così un'ulteriore spesa ai cittadini.